oggi si cambia si può si può vivere più semplicemente con le nuove semplificazioni ci sono meno certificati per tutti un esempio se hai un'impresa il durc dura di più inoltre si è detto stop a molte certificazioni inutili si è il decreto del fare fai valere i tuoi diritti per aiutarci a semplificare partecipa alla consultazione online grazie